C'è una novità che riguarda proprio il Foggia, vediamo insieme il comunicato ufficiale emesso dal club Rosso Nero in cui si comunica di aver depositato nella giornata del 18 luglio presso la FIGC Coviso che Lega B domanda di ripescaggio corredata da due fideiussioni bancarie, una da 800 mila euro la seconda da un milione di euro con in aggiunta un assegno circolare dal valore di un milione di euro come contributo straordinario in favore della Federazione Italiana Gioco Calcio.